Mettiamo una nuova rubrica, preparatevi nella chat e voi che siete in diretta, funziona in questo modo, ci sono cinque parole che sono collegate ad una sola parola di ambito giuridico ovviamente, io ve le mostro una per volta e il primo che la indovina, diciamo o qui in diretta o nella chat, vince, poi alla fine mi manderà un'email e vince un premio, insomma un premio così tanto per giocare, niente di significativo. Allora, devo attivare il microfono, vai vai sei attivo, attiva il microfono, è già attivo, allora pronti? Pronti? Allora iniziamo subito con la prima parola un po' difficile da capire, sporco, 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 cosa volete provare a dirne una? Tanto si può provare, anche voi che siete in diretta, ovviamente la parola da indovinare è una parola giuridica, quindi a cosa vi richiamo? Lo sporco? Mafia, rifiuti, bene, mafia, rifiuti, interessante, non è la parola esatta però potremmo esserci, vediamo la seconda parola, equilibrio a capperi, ora è già un po' diverso, sporco, equilibrio contrattuale nelle prestazioni, equilibrio contrattuale, ma cosa c'entra con sporco? La parola da indovinare deve riguardare tutte e due? Ah, giusto. Intanto dalla chat ci dicono corrotto, ma corrotto con l'equilibrio, oddio, il corrotto rompe l'equilibrio, potrebbe, corruzione, bilancio, bilancio in equilibrio, però bilancio sporco, vabbè, vediamo la terza parola, esigibili, eh, qui ci si inizia ad avvicinare, eh, qui ci si inizia ad avvicinare. Intanto Maria mi chiede, è normale impiegarci due mesi per la correzione di una prova scritta? Dipende, se ci sono 70.000 persone sì, se ce ne sono 100 è a risposta aperta sì, e comunque fregatevene, anche se non è normale, la commissione fa quello che crede e quindi non avete nessun diritto rispetto al tempo della correzione, quindi uno fa altri concorsi nel frattempo. Intanto mi dicono, equilibrio finanziario, tari, crediti, fondi, voi cosa dite? Fondi esigibili, fondi crediti, fondi crediti, fondi crediti, no, è una sola parola, eh, oddio, poteva essere FCDE, questo in effetti, attenzione, attenzione, che nella chat qualcuno ha indovinato, però non sciupiamo il gioco e quindi andiamo a vedere debiti, debiti, qual è la parola che collega tutte queste? Fondo di dubbio no, no, non è facile, non è facile, l'ultima, aprile Ah, il famoso rendiconto? Rendi conto, siamo lì vicini, cosa si fa durante il rendiconto? Il gioco consolidato? No, ci siamo, tre o quattro l'hanno indovinata in chat, non è facilissima, non è facilissima, allora, c'è un po' di esercizio? No, allora, quando io faccio un impegno o un impegno e poi non riesco a liquidarlo entro l'anno, cosa diventa? È residuo È, diventa un residuo, perché i residui intanto Liana è la prima che l'ha indovinato quindi Liana mandami un'email simone.chierelli.com che vinci un premio allora residui di sporco l'equilibrio di bilancio garantito anche tra i residui i crediti devono essere esigibili perché possono andare a residui i debiti o crediti a seconda che siano residui attivi o passivi e il riaccertamento dei residui che si fa ad aprile questo gioco a me piace perché consente di ragionare fuori dagli schemi aiuta a ragionare non è importante indovinarlo ma cercare le parole che collegano altri concetti bene benissimo andiamo avanti